Il Parco di Veio si racconta. L'area protetta che prende il nome dell'antica città etrusca è un libro aperto di storia, arte e natura. All'interno dei suoi 15.000 ettari distesi al nord di Roma, tra Cassia e Flaminia, testimonianze archeologiche, antichi borghi e direttrici viari e percorse nei secoli da viandanti, eserciti e pellegrini. Oggi tutto questo è raccontato in una guida aggiornata presentata in occasione della settima edizione di Flora Cult, la mostra a mercato del florviaismo amatoriale che si tiene in questi giorni alla storta. Il manuale descrive gli ambienti naturali e una serie di itinerari che conducono il visitatore attraverso l'agro veientano. Sono 38 i percorsi turistici immersi nella natura che si dipanno lungo 70 chilometri di sentieri recentemente ampliati e dotati di cartelli indicatori, secondo la cartellonistica del club alpino italiano che li ha inseriti nel suo archivio nazionale, tra questi la via Francigena. La guida segna un punto di svolta per la fruizione di questo parco, un parco importante a ridosso dentro la città di Roma, un parco che fino ad oggi è stato conosciuto in maniera parziale. La certezza di questi sentieri finalmente dà la possibilità di conoscere in maniera certa questo territorio straordinario. Attraverso il coinvolgimento delle associazioni, i primi di maggio, inizieremo a pensare nuovi percorsi. La guida sarà in vendita negli uffici del parco, in edicola e nelle librerie.